ciao e benvenuti a questa piccola lezione alla selezione che poi lezione non è che proprio diciamo che piccolo tutorial pillola vedete come volete vederla voi perché sinceramente io volevo soltanto mostrare un animazione che può essere utilizzata nella didattica l'animazione è più o meno simile a quella delle province cioè almeno il meccanismo è lo stesso facciamo domandare al nostro gattino dove vogliamo posizionarci e così in poche parole mi sembra uno strumento molto interessante per far apprendere le regioni d'italia ai bambini allora l'animazione si struttura in questa maniera conosciamo le regioni in quale regione vorresti andare noi diciamo puglia e il gattino si posizionerà su puglia poi se riazioniamo di nuovo la situazione lui ci dà dove vuoi andare e si ripeterà conosciamo le regioni questo è un dire mentre questo è un chiedi e aspetta la nostra risposta il chiedi adesso lo mettiamo su calabria e lui si posiziona su calabria così conosciamo le regioni significa che praticamente il bambino posizionato i gattini imparerà il nome delle regioni e dove sono posizionate quindi